C'è stato chi, pensando così di farla franca, ha cercato di disfarsi dell'involucro di droga facendola cadere mentre scendeva di macchina e chi invece ha pensato di nascondere lo stupefacente tra le mura di casa, tutti tentativi andati a vuoto ad incastrarli il fiuto dei cani antidroga che in pochi minuti sono riusciti a scovare i nascondigli. Si tratta dell'operazione dei carabinieri della compagnia di Cortona che si è concentrata in Val di Chiana, a Castiglion Fiorentino. I militari, con il supporto delle unità cinofile del nucleo carabinieri di Firenze, hanno infatti controllato 24 persone e sequestrato 10 grammi di sostanza stupefacente tra eroina, cocaina, hashish e marijuana. In alcuni casi i fermati hanno tentato maldestramente di occultare la droga che avevano addosso chi cercando di disfarsene e chi invece nascondendola tra le piante di un muro esterno di un'abitazione o addirittura nel mobiletto di un sottoscala. Il blizza si è concluso con la segnalazione all'autorità giudiziaria per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale di 5 persone.